Gentili telespettatori, buona giornata, è arrivato il grande giorno dopo cinque lunghi anni, quasi cinque lunghi anni. Finalmente si può votare. Io ho già votato, ho fatto il mio dovere. Credo che, e vi invito tutti, ad andare a votare, sennò poi è inutile guardarsi i canali su YouTube e lamentarsi di Tizio Caio e Sempronio. E' meglio andare a votare per, voi dite, ma cosa faccio, scelgo il meno peggio? Sì. Visto che qualcuno dovrà governare, per forza, almeno uno sceglie fra quello che c'è. Bisogna scegliere fra quello che c'è. E' inutile dire non vado a votare, perché non andare a votare non serve a niente. Anzi, lascia la decisione ad altri. E così, dalle sette di oggi, sono aperti i seggi. Oggi, domenica, 25 settembre. E vede fronteggiarsi, leader e volti noti delle forze politiche, nei collegi uninominali. Dove vince chi ottiene anche solo un voto in più di chi arriva secondo. Niente calcoli complessi, né attese spasmotiche per assicurarsi di aver raggiunto la soglia di sbarramento. Uno vince, gli altri sono fuori. Regola che vale per tutti quanti non abbiano anche ottenuto il cosiddetto paracadute. Un'ulteriore candidatura, ma nel listino proporzionale, in posizione utile da garantirsi comunque l'elezione. Attraverso il sistema uninominale saranno attribuiti 74 seggi su 200. Al Senato, 147 su 400. Alla Camera. Ci sono grandi città come Napoli, dove la spida per un seggio alla Camera riguarda almeno quattro big. Due di loro sono colleghi nel governo Draghi. Di Maio, candidato per il centrosinistra, e Garfagna, per il terzo polo. Gli altri sono Sergio Costa, l'ex ministro, e Maria Rosaria Rossi, del Movimento 5 Stelle. A lungo braccio operativo di Berlusconi, a Palazzo Grazioli, candidata per il centrodestra. A Roma, nel maxicollegio per il Senato, c'è la sfida tra due ex alleati. È il Lazio 2, Carlo Calenda per il terzo polo, ed Emma Bonino, politica di lungo corso e volto di più Europa per il centrosinistra. Da fronti opposti, invece, vengono le storie di Isabella Rauti, figlia di Pino Rauti, ex repubblichino e leader del Movimento Sociale Italiano. Candidata del centrodestra, Emanuele Fiano, figlio di Nedo, sopravvissuto all'Olocausto. Si contendono il collegio di Sesto San Giovanni per il Senato. E poi siamo al collegio di Bologna. Pier Ferdinando Casini, candidato del centrosinistra, e Vittorio Sgarbi, candidato del centrodestra. Una sfida pop, come è stata interpretata dai due contendenti. Il critico d'arte si è fatto rappresentare come Superman in un fumetto, in cui demoliva il mezzo busto dell'avversario. L'ex presidente della Camera, con un solido passato da democristiano, ha intonato Bella Ciao. Ma roba da matti. Canzone non di sinistra, ma degli italiani, ha spiegato. Nel collegio di Monza, la città di Silvio, Berlusconi misurerà il suo gradimento, sempre in Lombardia, ma tra Mantova e Cremone, la sfida centrodestra-centrosinistra, va i volti di Daniela Santanchè e Carlo Cottarelli. A Firenze, il centrosinistra schiera Ilaria Cucchi contro la candidata del centrodestra, Federica Picchi. In Sardegna, l'ex presidente del Senato, Marcello Pera, sfida per il centrodestra, il rappresentante del PD locale, Gaviano Manca. E poi siamo a Milano, dove c'è l'ex ministro Giulio Tremonti, del centrodestra, Fratelli d'Italia, e Benedetto Della Vedova, segretario di Più Europa, per il centrosinistra. Ha il gusto del derby tra l'ex sfida nel collegio di Giuliano, in campagna, per il Senato. C'è Mariolina Castellone per i Cinque Stelle e Davide Crippa, che rappresenta il centrosinistra, dopo aver lasciato i Cinque Stelle per impegno civico. I leader si misurano anche sugli stessi territori alla guida dei rispettivi listini bloccati. È il caso di Giorgia Meloni, Zingaretti, a Roma, Camera del Ricoletta PD, e Giuseppe Conte in Lombardia per la Camera. Nella stessa regione c'è anche un inedito scontro indiretto tra Matteo Renzi per il terzo polo e Berlusconi per Forza Italia e Salvini per il Senato. In campagna alla Camera Conte si misura con Roberto Speranza, PD, e Mara Garfagna, terzo polo. Insomma, comincia finalmente un'elezione che porterà, si spera, vivamente si spera, ad un governo eletto. Che non ci sia qualche scherzetto finale con la parità al Senato e spunta fuori di nuovo Draghi. Perché ormai a questo punto non ha più senso rimpiangere Draghi. Ormai è fatta. Quel che è fatto è fatto. Adesso ci sarà un governo eletto. Farà bene, molto bene, male, malissimo, non lo sappiamo. Cosa succederà con la crisi internazionale? Cosa succederà con le bollette? Cosa succederà con gli stipendi in Italia che ormai sono diventati da paese in via di sviluppo? Non più da paese occidentale evoluto, ma paese in via di sviluppo. Ormai il 20% della popolazione italiana prende stipendi da Centro-Sud-America. Ecco, parliamoci chiaro, o da altre zone del mondo. L'Italia ha bisogno di un cambio. Un cambio che poi non ci potrà neanche tanto essere, perché siamo invischiati dentro l'Europa. Non abbiamo la possibilità di agire sulla politica monetaria. Non possiamo neanche abbassare le tasse perché il debito è troppo alto. Insomma, un paese che non ha la possibilità neanche di tirarsi fuori. E questo perché siamo dentro l'Europa. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci a presto. C'è anche Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica, di notizie e di fai da te. E poi c'è anche il canale In Cucina con Carla. Vi invito a dargli un'occhiata se vi interessa la cucina. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie a tutti.